Il poligono di tiro dinamico dei Dragoni Sputafuoco ha ospitato la prima prova del campionato nazionale Handgun 2015. Nelle diverse categorie ci sono fronteggiati i tiratori provenienti da diverse parti della Sicilia. Nella production division al primo posto il catanese Salvatore Carpensano, seguito da Andrea Iurfin e da Santo Finocchiaro. La standard division ha visto primo classificato Ferdinando Crisafulli, messinese, seguito dal palermitano Massimiliano Pocorroba e da Sebastiano Montoneri, siracusano. In testa la open division Carmelo Palmeri, seguito al secondo posto da Santo Salerno e al terzo da Davide Mazzara. Per la revolver division sul podio Rosario Vicarini con al gradino più basso Giovanni Marchese e Filippo Cantone. Infine per la classic division Francesco Ferrante Parrino in testa, seguito da Marco Longo e Luigi Felici. La gara è inserita nel calendario, gara ed eventi 2015, della Federazione Italiana Tiro Dinamico Sportivo, disciplina sportiva riconosciuta dal CONI.